Il programma che segue è stato offerto da Macelleria da Carmine, Macellai dal 1900 Allora, benvenuti alla Chiappa Ospiti Questa volta abbiamo acchiappato un ospite importante del territorio Enzo Scipione, il più grande attore di tutti i tempi Come dice una nota, trasmissione radiofonica che seguo sempre Benvenuto tra noi, tu che sei venuto da Formia A trovarci qui agli studi di Telegolfo È stato facile trovare la strada? Non tanto, non tanto Ma perché è colpa mia, perché io sono sempre distratto alla guida Penso sempre ad altro, non è che sto là fissa Mi lascio un po' trasportare dai pensieri che mi... Il tuo cervello è sempre in attività Insomma, sempre a studiare nuovi personaggi Visto che tu sei anche, tra l'altro, un cantastoria Sì, io ho creato questo personaggio, il cantastoria Che è un po' un lavoro su un territorio Che io vado a fare dove mi ospitano Per esempio, se avessi una serata a Minturno Io faccio un lavoro sul territorio Ciò significa che vado sul posto A prendere appunti su aneddoti, inciuci, pettegolizzi particolari Su storielle che sono accadute tra varie famiglie Su soprannomi E su quello io riesco a costruire una storiella In parte rima, in parte no E poi da declamare durante la deambulazione del mio personaggio Nei vicoli della serata prescelta Tra Formia, Minturno e Zone Limitrofi Ci devi far sentire qualcosa Qualche storiella che dura poco C'è un testo, sì, ma quando faccio cantastoria Le storie che scrivo durano pochissime Perché ricordo che Comunque le vado a interpretare in mezzo alla massa In mezzo alla gente Quindi si rischia di perdere l'attenzione delle persone Questa è una storiella che ho scritto un paio di giorni fa Ancora devo memorizzarla Però la interpreterò durante la notte bianca di Castellone Durante i festeggiamenti del Santo Padrono di Sant'Erasmo Tra balconi, finestre e portone Rivivi storie, gente e soprannomi E solo camminando, camminando Ti accorgi che ti trovi a Castellone A Via della Torre Tanto per darvi un esempio Il video è largo e ci sono tanti commenti E scendendo, scendendo Fermando in un solo momento Ti racconto Nel tuo magazzino c'è stata la poteca di Eulalia A che stata la poteca di Cazzabot E solamente a casa c'è stata la poteca di Cazzabotice Storie fatte di popassa mamma E segna che a fine mese venga saldò Oppure marmassa da cingalire E alzando gli occhi e guardando a sti balconi Pensi come si chiamavano quando non gesteva il citofono E intanto distrai due minuti dopo una giornata da fatica Non riposino e poi dicevo A Filomena, la figlia di Giovannini Squazzarella, pensierosa, si affaccia alla finestra La tasorivana che abita di fronte Di fronte a esso, non poco più Abbascia da questa parte qua Vedendo la pensierosa Ehi, e che hai fatto? No, è figlio, ma la grossa Hai avuto a prendere il treno a Roma Per venire a Formia E il treno sta tardando un quarto d'ora Ivana ha risposto Con questo casto di treno Non si capisce più niente Ma Franceschino di Casarella Che abbia un po' di gamba a Filomena Di Squazzarella Che sarebbe la zia da parte di lui padre Non ci capite, buono Ma cosa successe? Subito Ivana No, che è la figlia Ma la figlia di Filomena Che è la grossa Hai avuto a prendere il treno a Roma Per venire a Formia E il treno porta una quarta d'ora di tarda Pappanella esce acquita Si affaccia alla finestra Come nella cana uscita Che è la che passa sempre da qua E cosa successe? Franceschino di Casarella La figlia grossa di Ivana La sora di Giovannini di Pascarella Hai avuto a Roma a prendere il treno Per venire a Formia E il treno porta una quarta d'ora di tarda Carmelino di Buttigliozze Che è successo? Niente signor Non voglio Stava stanco Se voleva fare una quarta d'ora Non c'era riuscito E che è un po' Ma anche se può fare una chiacchierata Questa è una storia di Povrieglia Gente genuina Detta tra balcone, finestra e portone Perché quando cammini per Castelluna Rivivi storie Gente e soprannucia L'applauso te lo faccio io Perché è un piacere sentirti Anche perché poi tu Questo è il tuo modo di esibirti Stai Mantieni vivo il dialetto locale E poi attingi da storie vissute Storie quotidiane Di tutti i giorni Come faceva il grande De Filippo Sì vabbè diciamo che il teatro Si mantiene molto alla realtà della vita Le storie che noi portiamo in teatro Che hanno portato in teatro I nostri grandi scrittori E che cerco di portare anch'io Sono scene realmente esistite Realmente accadute Che noi riportiamo Ovviamente romanzandoci sopra All'interno degli spettacoli teatrali O delle scenette Così si mantiene viva il ricordo La storia I soprannomi È la vera storia del popolo La vera storia fatta Ricordiamo La gente dice No la storia la fanno i grandi No la storia la fa il popolo Bene Approfitto della tua presenza Come attore teatrale Per chiederti Che differenza c'è Tra un attore teatrale Come tu sei E un attore televisivo Questi fanno questi fiction Sempre perfette Cioè che non hanno Secondo me nemmeno un rapporto col pubblico Come hai tu Che reciti in mezzo alla gente Allora La differenza c'è Ed è tanta Tantissima Il lavoro di attore teatrale C'è tutto dietro Un lavoro Sul personaggio Sul sentimento E su ciò che realmente Si vuole mettere in scena E poi è inutile dire Quando si va in scena Tu c'hai davanti un pubblico Un pubblico pagante Un pubblico esigente Un pubblico pronto A distruggerti Al momento più opportuno Che tu sbagli una virgola Sbagli una vocale Una consonante Sono subito lì Pronti a frustarti Invece Il pubblico cinematografico L'attore cinematografico Scusatemi Diciamo tra virgolette È più semplice Perché basta di avvolgere il nastro E riregistrare un'altra volta Anche se Anche se Il tutto è basato sull'immaginazione Perché mentre c'è una detta differenza Tra l'attore teatrale Che entra in scena C'è un pubblico davanti Quindi la tensione Il pubblico davanti Questo mostro che ha davanti Fa sì di avere una concentrazione al 100% Di viverla subito Senza sbavature Invece L'attore cinematografico Deve immaginarsi Tutto ciò che accade Ma a te Mai capitato di Dimenticarti una battuta E poi Però il pubblico Poi alla fine non se ne ha accorto Perché hai trovato Un escamotaggio Per continuare È inutile che lo dica Che l'attore deve avere La proprietà del linguaggio Cioè la padronanza Deve subito Trovare la soluzione Affinché Lo spettacolo avanti Non puoi stare lì fermo Oh Cassio mi sono dimenticato La battuta No non funziona Non può Non deve essere così Tu sei anche artista di strada Però so Che lavori pure in ristoranti Perché fai menu Sì Per le scene Spiegaci un po' questa cosa Un monologo per cena No diciamo che Ogni tanto Nel mio fantasticare Materializzo Ciò che può sembrare Distante Ho creato queste serate Un monologo per cena Praticamente È un menu Dove presenta proprio Degli antipassi Dei primi Dei secondi Dei dessert E invece Delle pietanze Da gustare Ci sono dei monologhi Da ascoltare Ogni Ogni Antipasto O primo O secondo Presenta 3-4 monologhi Con una breve descrizione Spazio Dall'ironico Al 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 divertente Al Al drammatico A secondo poi Il pubblico Che è presente in sala Richiede Perché io poi ripasso Tra i tavoli Per prendere l'ordine E poi ripare Tavolo per tavolo Il monologo Che loro hanno Scelto Ordinato E se ti nomino Due personaggi Importanti Peppino Impastato E Daldomoro Ti viene in mente qualcosa Peppino Impastato Daldomoro Torni Mi viene in mente Lo spettacolo Lasciate i soli Che è andato in scena 15 giorni fa Se non sbaglio Se ricordo bene Alle officine culturali Attuale Falcone Sala Falcone Il Borsellino Dove abbiamo ricevuto Un ottimo Successo Di rispondenti pubblico Diciamo che È stata una mossa Un po' azzardata Ho associato I due personaggi Ho preso Peppino Impastato E Aldomoro E li ho condotti Verso La morte Cioè i due personaggi Li ho accostati E li ho messi Tutte e due in scena Un monologo Che è molto duro Molto di impatto Molto di denuncia sociale Tu hai anche Una compagnia teatrale Sì Io ho una compagnia teatrale L'associazione teatrarte Dove Ci divertiamo A portare I nostri spettacoli I nostri prodotti Nell'Interland Formiano Fondi Leno La Cori San Giorgio Alliri Minturno Ovviamente Potremmo andare Anche più lontano Però I costi Sono Esorbitanti Spostare una compagnia Di dieci attori Con tutta la costumeria Con tutta l'attrezzatura A dei costi Esorbitanti Invece nei monologhi Riesco a girare Un po' l'Italia Da solo Ricordo i miei monologhi Che fare Tratto da Fontamare Ignazio Silone Provateci Un monologo Sulla donna Che ho scritto Che è l'uomo Che prova a fare la donna E poi appunto L'ultimo uscito Lasciati soli Su Peppini Impastati Aldomoro E due paroline a mio padre Un altro monologo No due paroline a mio padre È un grande lavoro Di Edoardo Di Filippo Più famoso come Non ti pago Dove io Io diciamo Allora io ogni anno A Natale Questo mi sa che siamo arrivati Al nove anni Nono anno Consecutivo Metto in scena Il teatro panettone Cioè tutti i quanti Vanno al cinema A vedere il cinema panettone No a Forbi Si fa il teatro panettone E praticamente Prendo delle commedie Le classiche Questi fantasmi Non ti pago Misere e nobiltà Il medico dei pazzi E le stravolgo Diciamo le scompongo E poi le ricompongo In modo mio Secondo una mia visione E le mettiamo in scena Due paroline a mio padre Tratta dal famosissimo Non ti pago E ricordiamo tutte La scena del biglietto Che il genero Riesce sempre a vincere Il povero Don Ferdinando Quagliuolo No E ha avuto molto Molto successo Vanta nell'Interland Formiano Una trentina di repliche Cioè il tuo pezzo preferito? Il mio pezzo preferito? Beh Quello in cui ti ci trovi meglio Ti calza il pennello Diciamo che è proprio questo Di non ti pago Che il personaggio Di Ferdinando Quagliuolo Quello che mi Che mi Mi si addice meglio Che riesco Secondo O perché la commedia Come è stata Strutturata È quella dove io riesco Forse a Emergere di più Io ti ho visto pure Una volta in piazza Mentre affondavi le mani Negli spaghetti Una grande Bizzarra idea Fare Misere e nobiltà Un atto Unico Cioè in un'ora e un quarto Tu vedevi Misere e nobiltà Lo spettacolo Non si fermava Mai Quando lo racconto Dici va bene Non ci crede Com'è fatto a fare La parte ricca Della parte povera È vero Cero Ok Il nostro grande Ciro Sasso Che saluto volentieri Ci ha creato Una ruota di ferro Una ruota di circa 25 metri quadrati Dove noi recitavamo Su quella ruota Su metà ruota Recitavamo Tutto lo spettacolo A un certo punto Nello spettacolo Sulla scena dei spaghetti La ruota si girava Si girava C'erano Queste anime bianche Che giravano la ruota E Allora La scena dei spaghetti Partiva così il tutto Il papa ci portava Con due critichetti Ci portava gli spaghetti E il papa Che dava a mangiare Ai poveri A un certo punto Nel giocare con questi spaghetti I spaghetti cadono a terra E Noi Come tanti affamati Ci arrancavamo Per prendere Questi spaghetti Un po' la scena Come questi Vista da Questi Profughi Che annegano Nelle acque E A un certo punto La ruota che si gira Nella metà Della ruota Si vedeva La parte povera E la parte ricca E il mondo Il mondo Che lo vedevi Attraverso le due facce Che ha Beh vedi Questo ti fa Tornare serio Perché tu ami Il teatro ironico Però A volte Dai anche dei messaggi Che fanno pensare Lo scopo è questo qui Di un attore Totò diceva Nella sua grande battuta Siamo uomini Ocavorali Certo Quindi è nell'ironia Nello scherzo Che si trovano Veramente le cose Belle Come diceva Edoardo De Filippo In questi fantasmi E tu sapessi Com'è difficile Nascondere per un uomo La sua tristezza Di una barzelletta Una risata Che quella La cosa tristissima Si fanno sorridere Ma pensare allo stesso tempo Molte scene Si perché noi Ci facciamo trasportare Dalla risata Ci facciamo trasportare Perché la cosa È più immediata Che ci arriva La cosa più immediata Che ci arriva È la risata Che bello Però poi La risata Ti oscura Tutto il resto Possiamo cercare Di guardare le cose Sotto un altro punto di vista Invece Come artista di strada Allora Io sono Ho fatto tanti interventi A livello di strada Perché Io sono convinto Che ci dobbiamo Riappropriare Della strada La strada È un luogo Importantissimo Perché Se non ci stiamo Noi Ci sono loro E se ci sono loro È la fine Fare l'artista di strada È molto importante Per noi artisti Perché Ci fa capire Veramente Il pubblico Come percepisce La nostra interpretazione Io come artista di strada Ho creato La baracca Una sorta di Jukebox umano Definita Dagli organizzatori Dei emergency A Roma Durante un raduno D'artista di strada Felliniana Con idea Felliniana È una struttura Alta Un metro e ottanta Larga Cinquanta E profondo Ottanta Dove Sono presenti Dei monologhi Una tabella Con dei monologhi Basta inserire Una monetina Teatro di teatro Di altri tempi Di altri tempi Di altri tempi Di anni passati Quello contemporaneo Tanta 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 Perché Secondo me Non c'è l'educazione Di stare in scena Il fatto di vedere Un pubblico davanti Il fatto di vedere Gente che applaude Il fatto che comunque Alla fine Sei sempre bravo La gente Usa sempre queste parole Stolcinate Sei bravo Sei bravo Sei bravo Sei bravissimo È un po' come funziona Un po' con i social Dobbiamo prendere Molti like Dobbiamo apparire Ecco Se finisci Dei apparire E non nell'essere Questo è il grave problema E poi Io vedo Abbiamo problemi Con le nuove leve Che Devono capire Che il lavoro Che il teatro è il lavoro Il teatro è il lavoro Significa Incontrarsi Provare 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 Di provare Provare Di provare Ma le scene che si fanno Devono essere Avere sempre Una Con crescendo Devono essere Totalmente diversa L'una dall'altro Questo è il Non lo si fa Non lo si deve fare Solo perché Con sfogliatezza Non è un caso Che noi Vi siete mai poste La domanda Perché Noi nel dopoguerra Abbiamo avuto I più grandi attori I più grandi registi Italiani Del mondo L'Italia ha avuto I più grandi attori I più grandi registi Nel dopoguerra Dopo quando non si stava niente Non c'era niente Perché Il lavoro è artigianato Cioè Noi dobbiamo creare Proprio l'artigiano Lavorare giornalmente Costruire piano piano Capire come si costruisce E così è il lavoro Dell'attore E poi E sacrificio anche Molto sacrificio Ma io Guarda Dal mio punto di vista Io non lo vedo Un sacrificio Io lo vedo Un sacrificio Dove una tina Zalman Da lavorare Deve avere una certa passione Deve essere predisposto Per Proprio per notare Le piccole cose Di tutti i giorni E poi Come si faceva una volta A creare Il personaggio Sì Ma creare pure Ecco Ho detto una cosa buona Notare le piccole cose Notare i particolari Sistemare i particolari Pulire Le scene E quello lo si fa Solo Giornalmente No Giornalmente Provando e riprovando Dopo due o tre ore di prove Il Oggi Sì vabbè Io la memoria Già ce l'ho Ma non è la memoria Che ti fa l'attore Anzi Secondo un mio punto di vista Meno memoria si ha E meglio è Perché noi Fantasia No perché noi abbiamo Un cervello Noi siamo pigri Noi siamo pigri L'essere pigro Ci porta a lavorare Sempre di meno Nel momento in cui Io ho la parte Memorizzata Nell'arco di tre giorni È inutile che poi Sono là sempre Ripete 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 Invece quando Si ha una memoria Un po' Corta Diciamo Che si Ha problemi di memoria Non problemi esagerati Voglio dire Un po' più elastica Esatto Quel testo Noi lo lavoriamo Lo lavoriamo Lo lavoriamo Tutti i giorni Lo ripetiamo Quindi andiamo a cercare Le sfumature Le parole Interpretiamo parole Il vero significato È la parola In quel contesto Incastrato in quel contesto Ma anche perché Ogni volta Che rappresentate Un'opera Una commedia È sempre diversa Non è mai uguale E non è un caso Che la prima È sempre da scartare La prima teatrale È sempre da scartare Ecco A proposito Di teatro Le nuove generazioni Come si avvicinano A questo Diciamo Tra virgolette Sacrificio Passione Guarda Oggi Oggi C'è molto C'è tanto Alcuni dicono C'è troppo Ma io Non penso Che ci sia troppo C'è molto E c'è tanto Io ho un consiglio Che do tutte le nuove generazioni Innanzitutto Di avvicinarsi Come veramente Il teatro da parrocchia Il teatro da chiesa Come ci usiamo un tempo Prima di investire Dei soldi Su di loro Perché Là si vede La vera passione E se realmente C'è talento Poi Passare allo studio Laboratori Corsi E stage Che comunque Hanno dei costi Però investire Così Di sana pianta Dei soldi Ogni mese Quelle 100-200 euro Per fare un corto Di laboratorio teatrale Per poi Dopo due o tre anni Accorgersi che Non è servito a niente Perché non sono portato Perché il teatro è per molti Ma non per tutti Allora io consiglio Alle nuove generazioni Veramente Ci sono tante associazioni Amatoriali Tanto teatro da chiesa Iniziamo lì Andiamo lì Vediamo realmente Cosa significa Per poi fare il passo successivo Beh Speriamo che Seguano il tuo consiglio La Chiappospe È riuscita a mettersi Un po' seduto Perché tu È difficile Tenerti fermo È difficilissimo È vero Prima hai detto Che spesso ti dicono Bravo bravo Sei bravissimo Ma ti è mai capitato Di ricevere Come si dice C'è un po' pomodori Frutta varia Per qualche spettacolo Che non è andato bene Ma diciamo che io sono Molto critico Nel mio spettacolo Sì Mi prendo i complimenti Mi prendo gli applausi Le congratulazioni Tutto quello che c'è Però quando poi Ho bisogno di un quarto d'ora Sta a me Per conto mio Per capire come è andato Lo spettacolo Per vedere Rielaborare tutte le scene Che sono state svolte E mi accorgo Che lo spettacolo Magari la sera prima È andata meglio Per la sera dopo Invece alcune scene Sono andate meglio prima Meglio dopo Quindi Poi io ho un gruppo Di 4-5 persone Molti miei stretti Collaboratori Che mi fanno nera Veramente Mi fanno nero Però diciamo che Voglio dire La maggior parte delle volte Fortunatamente è andata sempre bene Ma sono già io Che me ne accorgo Ovviamente vado sempre A fronte del pubblico Con sorriso Li ringrazio e tutto Però quando vedo poi I miei setti collaboratori Mi guardano in faccia Già capiscono che Lo spettacolo è andato male E poi Ecco Quando ci riuniamo Il giorno dopo Per capire Cosa è andato Come è andato Questo è un altro grave problema Odiano sentirsi Di le critiche Ma non sono critiche Sono degli appunti Degli aggiustamenti Ecco Ti è mai capitato E concludiamo qui Di salire sul palco E non vedere L'ora di che finisca Sta tortura Di stare sul palco No Diciamo di No Anche perché Comunque lo affronto Con gioia Con divertimento È una cosa che mi piace È sempre una prima volta In pratica Sì però voglio dire Mi è capitato Quando vado fuori Ho fatto spettacoli A Palermo A Roma A Pescina All'Aquila A Napoli E mi è capitato Ovviamente di trovare 7, 8, 10 persone In sala Voglio dire Quando giro i teatri Che vado fuori Giro i teatri Sono sale teatrali 50, 60 posti A sedere Quindi Enzo Scipione Da forno Voglio dire Voglio dire È sempre una soddisfazione Portare il proprio lavoro Che sei il più grande attore Di tutti i tempi Dunque adesso Nessuno potrà dire Il contrario Allora Noi ti ringraziamo Per questa Tua partecipazione Alla Chiappa Ospite Allora Enzo Scipione Adesso ci deve salutare A modo suo A modo mio Non ci siamo preparati Non ti sei preparato Però insomma Un breve pezzo Un breve pezzo In dialetto Come vuoi tu Perché insomma Un grande attore Fa questo E cosa mi siottare Di questo ospitale Merda Che mi cecai a me Ipotanni Mi consapevi Che ero la Madonna Ancora aveva avuta Rivelazione Nacqua a Nazareth Vicino a Caivano Che la mamma Nannine faceva Vamano Papà Giacchino Un pagliaseggio A tre ricette Mi spostai con un bravo giovane Che si chiamava Papina E faceva falegname Un periodo Mi stia qua Da qua Da una cammarella mia E mi legge Sto le sue canzoni Che era dietro appicciato Che mi andava Una canzone Di chi è povero Quando hanno certe pomette Si è detto Tutti sull'aria Poi Facette anche a me Chi sta la testa C'è da rire O vuoi C'è da una saluta Vagare la pia E chi si può Sfattare Avevo Dio Tu sei l'ancilla Domine No Vi sbagliate Facette e facette Io sono Ma arriva Quindi io mi porto Esposito Tu sarei la serva Del signore Addo Facette e facette Ma mi sposto Un bel uaglio Una fatica Vaga a servire Insomma Signora mia Io non avevo capito Papata niente Che l'era un miracle E ho scelto Ancinta Salvatore Oh Un re Sfattare Sfattare Buongiorno Suora Sto prendendo un po' D'aria fresca Fuori Taccino all'ospitale Si l'ho preso Il pinno Ho preso pure Le gocce pante E' vera Tu la fanguso Ehi Hai visto che si monica Non decita nessuno Ma quelle sono proprio pazze Sono tutte pazze Ci hai regalato una pillola Veramente Splendida Allora Ringraziamo ancora una volta Enzo Scipione Poi ci saluterà Il resto della tua compagnia Speriamo di averti ancora qui Con le tue nuove produzioni Salutiamo tutti gli ascoltatori E con il nostro motto State buoni Se potete Alla prossima Alla prossima Il programma che avete seguito E' stato offerto da Macelleria da Carmine Macellai Dal 1900 A prossima A prossima Grazie a tutti.